Non è il tuo giorno fortunato, straniero. Girati e cammina. Ho detto girati e cammina. Ti conosco? Non ti ricordi niente. Jake Lonergan, ti consegnerò allo sceriffo federale. Capo, Lonergan è in città. Voglio quell'uomo. Dammelo subito, o me lo prenderò io. Ma che diavolo? Sono demoni. Perché lo chiedi a me? Tardano! 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 Sì, 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 sì.